Un buon giorno e un buon sabato. Il 7 febbraio 2018, benvenuti alla rassegna stampa, l'ultima edizione settimanale, poi riprenderemo lunedì. Ovviamente domani spazio dedicato tutto alla giornata calcistica. Andiamo a vedere quali sono in questa prima parte le prime pagine dei quotidiani locali e non solo, partendo dalle quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Partiamo con l'edizione di Pescara, che vedete alle mie spalle e adesso anche a tutto schermo. Questione lavoro, 150 giovani da assumere. Si cercano animatori estivi per villaggi turistici ed hotel, le selezioni dal 9 all'11 di marzo. Per quanto riguarda in alto, questioni che concernono invece i trasporti, ferrovie, 186 milioni per la Pescara Chieti e per l'Aquila Sulmona. Dall'altra parte, l'anno nero degli assenteisti è stato il 2017 sul posto di lavoro. Le inchieste della Corte dei Conti. Scendiamo in pagina per vedere le cronache, ma anche la fotonotizia che riguarda Fabrizio Moro da Sanremo all'Abruzzo. Bagno di folla per Fabrizio Moro, il cantautore al Megalò dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Come vediamo nelle cronache, spazio allo sport, sfida a Lentella, Zeman rilancia. Ugo Campagnaro in difesa dovrebbe, almeno queste le previsioni della vigilia, sostituire, riprendere il posto che la settimana scorsa contro la Salernitana era stato di gravione. Vedremo se sarà così, ovviamente tutto alle 15 e tutto su TV6. Il progetto del comune, ovviamente siamo a Pescara, Riviera Sud, via i lavori, persi 100 posti auto. Ci spostiamo di qualche chilometro a Francavilla. Il sindaco Luciani vuole fondare il nuovo partito dei moderati. Cronaca ancora, falso invalido scoperto dopo 24 anni. È successo a Chieti, si alza dalla carrozzina per lavorare. L'accusa ha truffato 630 mila euro all'Inps. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto, che ovviamente apre con questa notizia. Falso invalido scoperto dopo 24 anni. Chieti si alza dalla carrozzina per lavorare. Evidentemente non era proprio così invalido. In alto la pagina rimane simile, ma quelle che cambiano sono le cronache, le notizie nelle cronache. Lavoro estivo negli hotel, maxi selezione per assumere 150 giovani. Cosa che abbiamo letto in apertura sull'edizione di Pescar. A D'Ortona, pista ciclabile e via dei lavori sull'ex ferrovia. A Monteodorisio, l'omicidio di Monteodorisio, il sindaco dice che chi ha ucciso Lizzi non abita qui. E poi l'avvertenza Honeywell, sia gli incentivi a chi lascia a testa 50 mila euro più mille per ogni anno di anzianità agli operai che rinunciano al posto di lavoro. Per il resto, come vedete, la pagina è simile anche a quella che troviamo a Teramo, che cambia però l'apertura. Truffa Hasl, il PM chiede 13 anni, imputati 3 tecnici e 2 dirigenti per timbrature ritenute illegittime dei cartellini. La fotonotizia cambia anche sull'edizione di Teramo perché c'erano mille persone in piazza martiri per applaudire Alessandro Di Battista, il deputato del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda le cronache, perché vedete che le altre notizie sono simili, andiamo a Giulianova, intascò i soldi dei loculi e allora viene condannata. Verso l'accordo, Pineto, la tassa di soggiorno è stata rinviata, almeno l'introduzione della tassa di soggiorno, al 2019 e dunque 2018 si rimane così com'è. Chiudiamo le quattro edizioni con quella aquilana, apertura poco personale alla ricostruzione, l'Aquila, genio civile, ecco perché le pratiche sono lente, condominio fermo da nove anni. La fotonotizia, purtroppo cattivi abitudini, uso dei telefonini in classe, presidi e studenti sono divisi, è un dibattito quello nelle scuole di Avezzano. Allucoli scatta nelle cronache, scatta la confisca per le case della Camorra, Arraiano, prende l'auto del padre e si schianta, è grave. Queste le prime pagine del quotidiano Il Centro, andiamo sul messaggero che apre con la notizia del falso invalido. Scoperto un falso invalido, Chieti ufficialmente era sulla sedia a rotelle. Il vicino lo incastra mentre fa dei lavori edili, avrebbe intascato illegalmente la pensione per vent'anni, 635 mila euro. Ora è sotto processo. In alto, Gran Sasso, acqua a rischio, l'osservatorio chiede un incontro con la regione. Promesse nell'urna, Lorenzin faremo gli ospedali di Vasto Lanciano, Avezzano e Sulmona. Per lo sport, calcio, Pescara cerca la svolta in trasferta contro l'Entella. Se finisco di inizio, alle ore 15, ovviamente partita che seguiremo come di consueto, come tutte le partite dei bianco-azzurri. Altre notizie, Pescara rissa la stazione, cresce l'allarme legato alla criminalità dopo le quattro rapine in due giorni, un'aggressione tra migranti. Per la Corte dei Conti, il report annuale, sono troppe le opere che sono purtroppo rimaste incompiute. Anche nella nostra regione, ad Ortona, ride con i quad, danni alla costa. Cambiamo quotidiano, andiamo in provincia di Teramo, con la prima pagina del quotidiano, la città, milioni di euro paralizzati, ricostruzione, strade e burocrazia. I professionisti dettano l'agenda ai candidati per le prossime elezioni. Insomma, ci siamo, il 4 marzo si vota. E poi la foto notizia, un po' curiosa, il Dragon Rising alla Teramana. Vedete questo signore che ha parcheggiato il SUV sulle scale direttamente dell'ospedale Mazzini. Ora diventa difficile, anche con tutte le urgenze che si possono avere, insomma, praticamente entrare all'interno della hall dell'ospedale Mazzini di Teramo. Altre notizie. Siamo a Isola del Gran Sasso, elementari, pronte entro settembre. Intanto al polo spunta il cartello di inizio cantiere. Il comizio in piazza di Alessandro Di Battista a Teramo, accolto con una pizza di cacio. Civica Popolare, la Lorenzin Benedice, Giorgione in basso serie C. Oggi gioca anche il Teramo a Salò con la speranza di fare un colpaccio che non sarà per nulla semplice contro la seconda della classe. A Giulianova saliamo in atto condannata la notizia, ritroviamo anche qui per aver intascato i soldi dei loculi. Cambiamo adesso dalle prime pagine dei quotidiani locali, andiamo sulle prime pagine dei nazionali. Corriere della Sera, vediamo l'apertura, Gentiloni, quasi ex premier oramai, anche se è ancora premier. Avremo un governo stabile, la strada si troverà a Bologna, scontri tra polizia e antifascisti. E poi la bella notizia che viene dalle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, Olimpiade Moioli, 22 anni. Prima questa ragazza nello snowboard davvero molto brava, la tavola d'oro di Michela. L'indagine sulle elezioni negli Stati Uniti aiutarono Trump e allora 13 russi vengono incriminati. Andiamo su Repubblica, collegi, la proiezione di voto, la destra fa il pieno, la simulazione a 15 giorni dalle elezioni. A Berlusconi mancano pochi seggi per governare, spese pazze M5S, picco in agosto, Campania, l'inchiesta sui rifiuti, di De Luca Junior, sarà interrogato. E poi andiamo in Turchia, il bacio della libertà, ma per altri secronisti è ergastolo. Denis Uccell con la moglie dopo la scarcerazione, giornalisti che stanno vivendo un periodo non facile davvero in Turchia. Dopo un anno le autorità di Ancara, infatti, come leggete, hanno scarcerato il giornalista tedesco di origine turca, accusato per i suoi articoli di propaganda al terrorismo. Sempre ieri sei suoi colleghi sono stati condannati all'ergastolo, niente meno che per tentata eversione. Il fatto quotidiano, il 15% dell'appalto a te, De Luca Junior, Marenzi difende Vincenzo e famiglia. Corruzione indagato, il figlio assessore PD, figlio del governatore della regione Campania. Elezioni, il non voto disgiunto farà annullare il 4% delle schede. Rosatello, il 4 marzo, il nuovo sistema elettorale ingannerà molti elettori, alle politiche non c'è, alle regionali sì. Anche qui, Russiagate, 13 uomini di Putin incriminati per aiutini a Trump. Il messaggero, edizione nazionale ovviamente, l'impegno di Gentiloni, stabilità, il premier alla Merkel, nessun rischio di governo populista e sul dopo voto farò il mio dovere. Le richieste di Confindustria, un piano da 250 miliardi in 5 anni per far crescere pil e occupazione. La fotonotizia, Moioli, regina dello snowboard, rosa anche, il secondo oro italiano dopo quello di Arianna Fontana. Cronaca, siamo ancora a parlare della famiglia Spada, quindi siamo ad Ostia, casa popolare a Spada, e il prefetto si dice sbigottita e la Raggi. Ora frena. Cambiamo quotidiano, libero l'Inps, stipendi a 9 mila fannulloni, poi non hai soldi per i pensionati. La piaga dei lavoratori socialmente inutili. L'ente di Previdenza dà un sussidio di 700 euro anche agli ex detenuti in Sicilia. Eppure la regione vanta debiti per 140 milioni con Boeri. Ma a lui interessa aiutare i finti poveri e angosciare chi ha versato i contributi. La seconda vita di Balotelli. Rinato Annizza, un nostro campione del calcio. E poi i sindacati vanno in Africa. Speriamo non tornino più con i quattrini dei contribuenti. La Farnesina finanzia CGL e Cisleville allo scopo di proteggere i migranti e promuovere il dialogo. La stampa quotidiana di Torino. Elezioni dal web. Attacchi filorussi. Nostra inchiesta. Sospetti su 5 account Twitter. A favore di 5 Stelle e Lega. Negli uso incriminati 13 cittadini russi per le interferenze nel voto. In Italia cresce il partito per un accordo tra PD e Forza Italia. E poi la fotonotizia. Viaggio ad Auroville, la città dell'utopia. Il villaggio Ippi che insegue la pace universale compie 50 anni. La visita dei modi per festeggiarla. Il tempo. Ma quale zingaretti? Così vinco io. Parisi, candidato del centrodestra del tempo. Il candidato alla presidenza della regione rimonta grazie all'onda nazionale. Berlusconi è con me. I numeri non mentono. Nel Lazio, il centrodestra e avanti. Pirozzi è in calo, dice Parisi. A proposito di Pirozzi, terremoto di Amatrice. Soldi per il sisma. Ora indaga la Corte dei Conti. Tra i 5 Stelle invece c'è lo spettro della scissione. Ancora polemiche sul caso dei rimborsi. E poi la questione, la notizia del crollo nel quartiere romano della Balduina. Balduina trema e gli sfolati del 98. Chiedono i soldi. Il manifesto Zona Rossa. Questo è il titolo con un gioco di parole. Perché in una Bologna blindata sfidano contro il comizio di Forza Nuova due presidi antifascisti cariche contro i centri sociali. Sei feriti. In piazza con Ampi, Arci, CGL e Libera. Anche esponenti di Liberi e Uguali. In serata enorme corteo di giovani. Che è quello che vedete nella foto. In altro, fine pena mai per sei giornalisti turchi. Libertà di informazione nella Turchia del sultano Erdogan. Il sole 24 ore da Confindustria e il piano per l'Italia boccia in 5 anni 250 miliardi di investimenti e 1 milione e 800 mila nuovi occupati. Questa è la previsione di Confindustria che è anche di fatto praticamente editore del giornale di cui stiamo leggendo la prima pagina. Ecco perché poi le richieste di Confindustria, come vedete, prendono larga parte della prima pagina dai nostri inviati alla Sise di Verona. Il programma, il messaggio alla politica, la competitività e gli imprenditori. I numeri del progetto lanciato proprio da Confindustria li vedete riassunti in questo specchietto consultabile. Ovviamente, vertice Gentiloni Merkel in Germania. Nessun rischio di governo populista, dice Gentiloni, al Merkel. Il mattino, la questione legata al figlio del governatore De Luca, De Luca Junior, l'intrigo del video perquisito, il figlio del governatore, il legale, interferenze illecite e provocatorie. È registrato il dialogo con il consulente, a noi il 15%. Il presidente della campagna dice la solita sceneggiatura di spalla. Ritroviamo le parole di Gentiloni. I populisti non governeranno. Intanto Confindustria dice salviamo le riforme. A centro pagina. Preti pedofili. Il Papa riapre il caso Napoli. Bergoglio dispone nuovi accertamenti sul parago di Ponticelli che la Curia aveva archiviato. Il secolo. Grande foto di Giorgio Meloni. Il titolo. Sì, avete rotto. Leggiamo un po' perché altrimenti non si capisce. Cortesemente potreste farla finita ogni volta che dovete chiedervi del fascismo, del nazismo, delle guerre puniche. Vorrei parlare anche del terzo millennio. È possibile? Ecco, questo è l'incipit del pezzo che spiega un po' anche il titolo. Altrimenti sarebbe un titolo un po' così. Primo piano la violenza antifascista. Nuovi scontri a Bologna. Poi né razzista né comunista. Cruz era solo un pazzo. Il folle killer di Parkland in Florida che ha ucciso 17 persone. Carabiniere aggredito, arrestati i due colpevoli. La verità con cui chiudiamo i giornali generalisti per andare poi su quelli sportivi. Sportivi, Unità Nazionale, fregatura colossale. Cari elettori, preparatevi. Gentiloni va a baciare la pantofola della Merkel e la rassicura. Dopo il voto non cambierà nulla. Sondaggi e giornali confermano che nessuno avrà la maggioranza. Si va verso il grande Inciucio e in alto Adige la Boschi resta uccelle di Bosco. A centropagina le inchieste non fermano Profugopoli. Si moltiplicano le indagini sugli speculatori dell'accoglienza. Ma il sistema resta intatto. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport che apre con questa bellissima foto e anche con un titolo. Vola, vola, Michela, l'oro e donna. Moioli Show, Dominal Cross e festa nello snowboard, spericolata ansiosa. Col premio, dice, mi compro la casa. Complimenti a Michela Moioli, bergamasca di 22 anni. L'analisi di Fausto Narducci. Inchiniamoci alla Bolt della neve. Davvero bravissima. Poi a centropagina troviamo le questioni legate al calcio. I principi azzurri. Il super balotelli francese vede la nazionale. Ma il futuro, ovviamente, non può che essere di Cutrone, attaccante del Milan. Due attaccanti, tanto talento. Italia, prendi nota. E avrà tempo, purtroppo, per prendere nota. Perché, insomma, al Mondiale di Russia non ci sarà. La fotonotizia. Inter, Karamoeder, Icardi ancora fuori. Fermo pure Perisic. Il Franco Ivoriano a caccia del bis. Cari Caspalletti. I depressi stiano lontani da noi. Ammarassi si vince. E punge il tecnico della Roma, Di Francesco. Ma domani c'è anche il derby della Mole di Torino. Toro, Mazzarri con tre trappole. Juve, Cella, Muleto, Marchisio. E invece il resto del programma. La Roma va a Udine alla prova a Oddo. Chievo e Cagliari. Vietato distrarsi. Come vedete, oggi c'è Udinese e Roma alle 15. Chievo, Cagliari alle 18. E questa sera Genoa e Inter. Proprio alle ore 20.45. Il Corriere dello Sport, invece, torna sul Napoli come spesso fa. Sarri spacca Napoli. Il K.O. con l'Ipsia fa discutere. Giusto rinunciare all'Europa League per puntare tutto sul campionato. Si divide anche una giuria di super esperti. Perché l'analisi di Alberto Polverosi inizia con questo che poi è un monito. Perché rinunciando all'Europa League adesso Sarri deve vincere lo scudetto. Altrimenti la stagione sarebbe comunque fallimentare. In alto, Spalletti, battute al veleno. Inter in casa Genoa alle 20.45. Sansecardi e Perisic. Punge, Ausilio e Sabatini. Poi attacca Di Francesco e Totti. Eusebio, contano i fatti. Dura replica a Strotman. Stanco di troppe parole. Dobbiamo essere ambiziosi, dice il tecnico abruzzese. Della Roma in basso. Loro di Michela. Ho scalato la mia montagna alla Moioli e lo Snowboard Cross. Un bene, l'infortunio che ho avuto a Sochi. In Serie B, che oggi scende in campo. Diagonale di Delia. Il Bari vince a Cremona e sogna 0-1. L'anticipo va a Fabio Grosso. Ora quarto da solo. Esame Perugia per il Palermo. Salerno e Avellino provano a risalire. Chiudiamo con tutto sport. Ovviamente con il derby. Non può che avere ampio spazio. Derby vero. Come una volta. Si accende la rivalutata degli anni ruggenti. Mazzarri sa come fermare Allegri e Bianconeri. Andrea Agnelli è andato a Vino per caricare la squadra. La Moioli. Trionfo Snowboard. Dice la Bergamasca. Ho scalato una montagna. In basso altre questioni che riguardano altre squadre. Innanzitutto partiamo con il basket. Coppa Italia. Torino-Cremona vale la finale. Questione Milan. Donnarumma. Pace con i tifosi. E futuro incerto. Cutrone. Blindato. Inter. Stasera il Genova. Ma che scintille. Tra Spalletti e Di Francesco. E noi ci fermiamo per questa prima parte. Adesso spazio alle previsioni del tempo. La pubblicità. Poi rientriamo. Entriamo dentro i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di Mattino 6 che ovviamente dedichiamo alla lettura dei titoli principali, delle notizie principali che troverete nei quotidiani di casa nostra già in edicola. Ripartiamo con il centro che apre con il 2017 che è stato l'anno nero dei furbi del cartellino. Corte dei conti, il presidente Miele. Fenomeno grave nel mirino anche in debiti e percezioni di fondi per la ricostruzione, reati dei pubblici amministratori. Il bilancio del 2017 lo vedete riassunto ovviamente nello specchietto. Il lavoro dei giudici contabili ha aperte quasi mille inchieste. Sono più di due ogni giorno. E allora proprio sul bilancio della Corte dei Conti andiamo a vedere il servizio di Daniela Rosone. Vediamo. Un bilancio positivo per l'anno 2017, quello della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Nonostante la sezione regionale di controllo e la Procura abbiano dovuto operare con limitate risorse finanziarie e con un organico ridotto. Dati snocciolati dal presidente della sezione giurisdizionale Tommaso Miele nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Siamo andati addirittura ben oltre i dati degli altri anni. Abbiamo superato sicuramente i 140 giudizi. Sicuramente non tutti conclusi si concondanna. Ma noi siamo qui a fare i giudici. Quindi non è che dobbiamo solo condannare. Se invece vediamo che in taluni casi magari c'è stato un danno ma non c'è stata la colpa grave, nemmeno che mai il dolo, assolviamo. Quindi ci sono stati tantissimi giudizi. Di questo diamo atto alla Procura regionale. Diverse le fattispecie più dannose sottoposte al giudizio della sezione, alcune riguardanti amministratori comunali, in un altro caso un dirigente medico. Ma secondo il presidente Miele la pubblica amministrazione che ben opera non ha nulla da temere. Ma sicuramente è qui il terremoto che è stato un evento eccezionale, diciamo ha comportato la gestione di un'emergenza sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto il profilo della ricostruzione. Quindi gestione anche di risorse pubbliche ingenti, gestione di finanziamenti, di contributi per la ricostruzione, di cui noi pure spesso ci occupiamo. Sicuramente le amministrazioni hanno fatto il possibile. Ci sono stati anche dei casi che sono venuti alla nostra attenzione, sono tante fattispecie di responsabilità amministrativa, di illecita percezione di contributi per la gestione, per la ricostruzione post-sisma del 2009. Per i giudizi pensionistici la Corte ha zerato il proprio arretrato, soddisfando le istanze in tempi brevi. La giurisdizione pensionistica rispetto agli altri anni è stata pressoché a zerata. Di questo ringrazio particolarmente i miei colleghi e tutto il personale amministrativo che veramente ha lavorato tantissimo. Rientriamo dunque, andiamo su altre notizie, per esempio questa che troviamo sul messaggero. Il voto alla sanità, Lorenzini impegno per i quattro ospedali minori, oltre 300 milioni per Lanciano, Vasto, Sulmone e Avezzano. Una parte della somma destinata ai presidi di Penne e di Teramo. Gli investimenti potranno partire appena il dirigente specializzato tornerà dall'estero. Una mamma protesta per i vaccini obbligatori. Noi dobbiamo seguire le linee della scienza medica, ha risposto la Lorenzini. Cominciamo andando nelle città e partiamo da Pescara, rimanendo sul messaggero. Una società in house per i tributi. La Commissione Finanze sta lavorando alla delibera che dovrebbe arrivare in Consiglio per l'estate. La struttura interna dà più garanzie dell'Agenzia delle Entrate. Il dirigente Dezio dice che è una riforma che porterà benefici a lungo. Lavori quasi ultimati al centro storico ZTL e telecamere per il carico e scarico. Il passaggio ai mezzi sarà consentito solo un'ora a giorno sul percorso fisso, dice Blasioli. Al via anche sulla riviera sud. Andiamo avanti per la cronaca rissa con bottigliate al terminal del bus. Terrore tra i passanti. Tragedia sfiorata giovedì sera alle 21. La polizia arresta un marocchino e un romeno. Un terzo uomo è fuggito a Montesilvano. Toleranza zero, nuovo sgombero di abusivi in Pineta, nella Pineta di Montesilvano. I controlli dei NAS, dimagranti, neguai, medici e infermieri. In basso l'appello. Pare di dieci figli, chiede aiuto al Papa per diventare archivista in Vaticano. Giacinto Carrozza, laureato in lettere, precario, cerca un impiego che possa dargli tranquillità. Cambiamo pagina. Guerra ai furbetti del cassonetto. Tra poco vedremo anche il servizio perché Montesilvano abbandona le cattive abitudini. è la campagna del comune rivolta a chi è solito gettare rifiuti per strada. Dal 2016 emesse multe per 27.500 euro con le foto trappole. Il sindaco Maragno dice che la gente deve imparare ad essere più civile. Allora, vediamo il servizio, anche in questo caso, su questa iniziativa del comune di Montesilvano. Assessore, il comune di Montesilvano prosegue la sua lotta contro i rifiuti. Oggi lanciate una campagna contro le cattive abitudini. Sì, perché purtroppo ci scontriamo quotidianamente a dover affrontare e cercare di risolvere e porre rimedio alle cattive abitudini. Non dico solo dei nostri concittadini perché spesso sono anche ditte o persone che vengono dai comuni limitrofi che trovano dei luoghi un po' appartati, a volte invece anche su strade principali, e decidono di abbandonare i propri rifiuti in maniera indiscriminata, abbandonando copertoni, mobili, Ethernet e quant'altro. Noi abbiamo messo in campo diversi strumenti come dei soliti tabelloni 6x3 di affissione e poi la novità sono i mezzi dedicati al servizio di igiene urbana che vengono brandizzati con questo messaggio per avere una maggiore visibilità. I nostri mezzi girano su tutto il territorio comunale e ci auguriamo quindi che questo messaggio arrivi in maniera capillare a tutte le famiglie di Montesilvani. Malgrado ci sia un numero verde dedicato che permette la prenotazione del ritiro degli ingombranti e noi entro due o tre giorni dalla chiamata passiamo a ritirare a domicilio in maniera gratuita questi ingombranti, noi puntualmente vediamo socialmente in alcuni punti ben localizzati che intorno ai cassonetti stradali vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo. Questa campagna pubblicitaria segue le altre iniziative poste in campo da questa amministrazione che cominciano con il porta a porta spinto in tutta la zona collinare che adesso si sta allargando alla zona del PP1 con la creazione di un'isola ecologica proprio nella zona del PP1, continua con la creazione di un centro di raccolta dove i cittadini potranno andare a conferire tutti i tipi di rifiuti, prosegue con la creazione di un centro del riuso laddove noi daremo la possibilità ai cittadini di scambiarsi sostanzialmente dei beni non più utilizzati ma comunque che possono avere ancora una vita andando ad alleggerire quelli che sono i conferimenti in discarica e che i cittadini e i cittadini pagano. Torniamo sul quotidiano del centro per parlare di trasporti. L'Aquila, Pescara e Chieti. RFI, come vedete, investe 186 milioni. La D Gentile, scrive D'Alfonso, fondi per l'area metropolitana e per la Sulmona Rieti. Spariscono le vecchie littorine. Il governatore assicura che i progetti sono pronti. Sul voto per la Regione il Presidente dice che resta fino a dicembre. In basso il lavoro e crescita, la Will, verso il Congresso. In attesa del 14 e 15 maggio la categoria degli agenti penitenziari rielege il segretario Mauro Nardella. Vediamo, entriamo anche qui all'interno delle città. Siamo a Pescara, lavori per l'estate, disponibili 150 posti. Dal 9 all'11 marzo le selezioni per villaggi turistici e alberi. Gli stipendi da 400 a 1.400 euro al mese. Via ai lavori sulla Riviera Sud. Spariranno 100 posti auto. I ballenatori criticano l'opera, ma Blasioli assicura, li recuperiamo tutti. Queste le parole del Vice Sindaco. La città che cambia. Siamo sempre a Pescara. Polo culturale nel Palazzo Ex Ferrovie. Via Michelangelo, l'immobile in abbandono da più di 10 anni. Diventerà un centro di didattica accademica con un museo. Questo vedete sono, insomma, in questo momento il locale non proprio un po' fatiscente, che però diventerà un polo culturale. Lo speriamo, speriamo che lo diventi presto. La Polizia in Comune ha acquisito gli atti delle norme tecniche. Blitz degli agenti negli uffici dell'assessorata all'urbanistica. Civitarese è sorpreso. Non so il motivo. Il testo è su internet. L'altro fronte, preparati dimagranti in 12 segnalati dal NAS. Errori sulle ricette. Poi, cronaca, rissa abbottigliate al terminal bus. Un ferito e due arresti coinvolti degli extracomunitari. Ancora, rimaniamo a Pescara. Galadini, anche la costa può subire danni dal sisma. È il ricercatore dell'NGV all'incontro del forum H2O. Casa di riposo, siamo a spoltore. Scattala di fida. Il sindaco di Lorito dà l'ultimatum al gestore che dovrà pagare gli stipendi entro venerdì. E poi, una notizia curiosa, un portale dove scambiare oggetti usati. L'idea della Deco ha centinaia di iscritti. Siamo nella zona vestina, sisma, incurie e dissesti. Ecco il borgo cancellato. Siamo a Penne, da Palazzo Vignola, con il tetto sfondato alla passeggiata panoramica di salita fontemanente. Pezzi di centro storico che restano inaccessibili ormai da mesi. A Loreto, nuovo defibrillatore sistemato in piazza Garibaldi. Festa al Megalò. Siamo a Chieti, tutti pazzi per Moro, caccia alla foto con il re di Sanremo. Bagno di folla per il cantautore, incantato dal pubblico. Applausi a scena aperta per non mi avete fatto niente. Queste le foto del pomeriggio, della giornata di Fabrizio Moro al Megalò. Siamo a Pineto, tassa di soggiorno. Il rinvio è possibile, Pineto Verrocchi è disposto a far slittare l'introduzione al 2019 se gli operatori turistici finanzieranno gli eventi estivi. Per la questione fanghi, l'opposizione accusa, esclusi dal tavolo tecnico, emergenza ambientale. Oggi ci sarà un incontro a Silvi. Scendiamo in pagina, sempre a Pineto. Anziana resta solo a terra per ore, salvata, cade in casa e si rompe il femmore. I vigili del fuoco la raggiungono passando da un balcone. E poi la riviera dei Borghi d'Acquaviva alla Bitt, Atri, Pineto, Roseto e Silvi si promuovono insieme. A Roseto, guardie ambientali, progetti per attrarre più turisti in città. Martedì l'associazione incontra il sindaco, il presidente Cere, vogliamo valorizzare la riserva del Borsacchio e gestire l'ufficio IAT, tenendolo aperto anche nei fini di settimana fino a mezzanotte. Il comune avvia la creazione di sette consigli, scelte anche le sedi dei comitati, apriranno in estate. Siamo all'Aquila. Camorra, confiscate due case allucoli, blitz dei finanzieri nella località turistica montana. L'indagine parte da Roma e svela degli intrecci con mafia capitale. Altre notizie. A Prato, del sindaco Di Nino, va a giudizio. L'accusa indusse un lavoratore della sua azienda a dichiarare il falso. L'Aquila, assunzione post-sisma, si indaga. Qui siamo già allo sport e allora torniamo sul messaggero per vedere le altre notizie. All'Aquila, ma in casa messaggero, fascicolo del fabbricato, biondi è una priorità, serve una figura. Si pensa all'istituzione di un profilo ad hoc inserito nell'ambito delle alte professionalità. Nei prossimi giorni è fissato un vertice con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il primo cittadino, come leggiamo, tira dritto sulla questione che investe direttamente la sicurezza. E poi dalla Corte dei Conti, bacchettate alla Regione. Questo è il bilancio di ieri presso la Corte dei Conti. La buona sanità, epilessia, attese al minimo, ma manca il riconoscimento. Il processo in basso, le tre educatrici, nell'asilo non c'è stato nessun maltrattamento nell'asilo nido Cipeciop di Pettino. Sempre all'Aquila, sotto servizi e reperti, il commercio è in crisi. Gran Sasso, acqua e sovrintendenza lavorano insieme per cercare di rimodulare l'intervento e accorciare i tempi. L'area del corso è ormai allo stremo. Gli esercenti chiedono una maggiore comunicazione e certezze sul crono programma. Quagliariello, verso il voto, dice che serve una legge per la rinascita. Avezzano sul Mona, questa è la pagina. Allora siamo proprio nel centro ovidiano. Sottrae l'auto della madre e si schianta. Grave un ventenne ritrovato ieri mattina lungo la strada che collega Prezza a Raiano, incastrato tra le lamiere. Non è ancora chiaro da quanto tempo il giovane, che non ha la patente, fosse esamine all'interno del mezzo. Finito, fuori strada. E poi, sempre a Sul Mona, discarica abusiva di San Rufina, presi tre sporcaccioni. E come vedete c'è anche un bel cartello, benvenuti a Sul Mona, città d'arte. Insomma, l'arte qui, proprio in questa foto, non si vede. In basso, ad Avezzano, il CAM chiude l'acqua alle aziende del nucleo. E poi, delitto del Gianicolo, l'appello della madre. In basso, sempre ad Avezzano, ospedale allo sfascio. Ecco quali sono le responsabilità. Acchieti, invalido, come vediamo tra poco, falso invalido sulla carrozzina, cammina e lavora in giardino, sotto processo un settantenne di casa rincontrata. Truffato in Pseinal per 635 mila euro. Ecco le foto per l'accusa, che per l'accusa lo incastrano, le ha scattate un vicino con cui era in lite. Evidentemente, gliel'ha fatta pagare. Queste sono foto abbastanza incontrovertibili, se fosse lui, ovviamente, del fatto che sulla sedia a rotelle proprio non c'è. Agricoltore Puscher, preso dai carabinieri, spacciava cocaina. Poi in basso, Megalò, bagno di folla per Fabrizio Moro. Cambiamo pagina. Onewell, evitati i licenziamenti. L'intesa è stata raggiunta, dopo la riunione al Ministero, resterà parte dell'attività sia alla Cassa straordinaria. La soddisfazione dei sindacati partono le iniziative per attrarre investitori. Lolli, un accordo definito, accettabile. Questioni anche del lavoro. A San Salvo, Pilkington, a caccia di soluzioni per scongiurare i 190 esuberi. In basso, vasto, Cotir, 14 lavoratori sono da reintegrare. Lo stabilisce la sentenza del Tribunale, ma restano i problemi. L'ente di ricerca è stato chiuso. A Lanciano, bomba in Tribunale, ma si tratta solamente di un falso allarme. A Teramo, di Battista, scalda la piazza. Poi lanci i candidati M5S dal palco parole per i terremotati. Tra attacchi e applausi dei sostenitori, Lorenzin, consensi e contestazioni per la Ministra che passeggiava tra i tigli. Altre notizie. In Veneto, medico Teramano truffato, venduta l'auto rottamata. In basso, acqua del Gran Sasso, timori sui lavori. L'osservatorio non c'è ancora alcun elaborato sulle attività di messa in sicurezza. Cronaca Giulianova, pensionato morto. La procura indaga ieri sera a sorpresa sopra il luogo del tecnico nominato dal magistrato sul luogo dell'incidente con i carabinieri. Convocati, dirigente e funzionario dell'ufficio del comune per fare chiorezza sul decesso di De Benedictis. A centropagina, trovata nella piazza del santuario, l'auto del fallito colpo da Ciprietti. In basso siamo in vibrata, cartellone elettorali riducono la virtuale, commercianti infuriati li fanno trasferire a Colonnella, Ribaltone e Sindaco PD verso la lista di Salvini. Qui entriamo nello sport e allora, visto che siamo in provincia di Teramo, facciamo un salto anche sul quotidiano La Città perché vediamo l'apertura di pagina. Bruzzo, un terzo delle giunte teramane non è in regola, 16 comuni su 47 non rispettano la parità di genere nella composizione della squadra di governo. E poi la sveglia ai candidati, ricostruzione, milioni di euro paralizzati, cantieri fermi, strade colabrodo e burocrazia soffocante. I professionisti dettano l'agenda alla politica, tre presidenti, costruttori, ingegneri e architetti fanno l'elenco dei problemi che stanno paralizzando l'economia teramana. E vedete anche negli specchietti quello della ricostruzione, l'attività dell'USR, insomma tutto riassunto in maniera analitica. Il convegno cultura e mecenatismo, ripartiamo dal politico alla fondazione Tercas, si è parlato di Art Bonus e gli interventi necessari per il patrimonio artistico teramano. La Lorenzin benedice la candidatura di Giorgione, il ministro della Salute in città per ricordare i risultati di cinque anni di governo. A Lanciano annuncia fondi al Mazzini, ovviamente Giorgione, come vedete è anche nella foto, è Giorgio D'Ignazio. In basso, Lucrezia Rasicci si lancia nella crociata anti-Bolkenstein, la candidata del centrodestra promette di battersi per abolirla e tutelare le concessioni balneari. Di Battista, in città colto con del formaggio, il grillino paladino dell'onestà, scherza sul dono di un attivista, le tangenti enogastronomiche, dice le prendo. In basso, Casa Pound presenta il suo programma, estrema destra, ieri il partecipato incontro all'hotel Sporting di Teramo. La notizia curiosa, parcheggia il SUV sulle scale del Mazzini, solo a Teramo, operatori sanitari e pazienti allibiti da ciò che accade all'ospedale. Vi riproponiamo questa foto di questo signore, che è parcheggiato sulle scale, per intenderci. Altre notizie di cronaca, assolta la prof che minacciò di abbassare i voti, docenti di musica delle medie, è prosciolta dopo le accuse lanciate da alunni e genitori per gelosie tra insegnanti. Andiamo avanti, siamo ad Isola del Gran Sasso, elementari pronte per il nuovo anno scolastico. L'assessore di Gian Camillo, lavori iniziati il 14 con il verbale di affidamento, ma c'è chi rema contro. Ancora, riavvicinamento, siamo in vibrata tra Rasicci e Piccioni, il sindaco uscente potrebbe contare di nuovo sull'ex assessore provinciale. A centropagina, a Bruzzo Civico, piazza i suoi uomini anche a Nereto, in basso, il fisco arriva a scuola. All'istituto d'annunzio di Corropoli, studenti hanno incontrato il direttore giugliese dell'Agenzia delle Entrate. Cronaca a Giulianova, intascava i soldi dei loculi, condannata da due anni e sei mesi all'ex dipendente comunale di Giulianova a delle crocetti. In basso, perso il finanziamento per realizzare il centro di riuso. Apriamo adesso la pagina dello sport, perché oggi è giornata di B e allora, come vedete, Entella Pescara, oggi pomeriggio alle 15, Zeman e l'Ansia Playoff. Spero si facciano, ha detto ieri in conferenza stampa il Boemo. Un momento topico, le prime tre si stanno staccando troppo. Queste le parole di Zeman e che troviamo anche sul quotidiano Il Messaggero, perché oggi il Pescara potrebbe, come vedete dal titolo, potrebbe svoltare Pescara. Oggi puoi svoltare, questo è il titolo del messaggero, ovviamente a Chiavari, non a Dentella, contro la pericolante. In caso di successo si rientra nel treno dei playoff. Zeman dice, a me il tridente piace quando si tira in porta. Ora bisogna evitare soltanto la fuga solitaria delle tre. Campagnaro e Proietti titolari, la scelta del Boemo. Le vediamo, quelle che potrebbero essere le probabili formazioni. Pescara con Fiorillo, Balzano, Campagnaro, Perrotta e Mazzotta. Valzania, Proietti e Brugman, Iamgà, Pettinari e Mancuso in attacco. E allora, proprio sulla partita di questo pomeriggio, andiamo ad ascoltare alcuni passaggi della conferenza stampa di Zdenek Zena. Per me come squadra, a parte che classifica, non è buona, nonostante i tre punti di terni. Però per me è una squadra che ha dei giocatori importanti. Praticamente ora si sono messi a giocare questo 5-3-2. Mentre prima giocano con quattro dietro, anche se penso che ci mancherà uno difensore centrale. E quindi bisogna vedere come si sistemano da parte nostra e dobbiamo cercare di giocare nostro, sperando di essere più aggressivi e propositivi. Ma non credo che siamo più abituati, visto che noi ci alleniamo sempre sul sintetico. Non è un problema di terreno, se non sono magari dimensioni, forse è un po' più stretto. E poi dipende che è più attivo, nel senso che sul campo è più stretto, è meglio aggredire, perché ci sono pochi spazi. In settimana Balzano ha dichiarato che c'è ancora tempo per vedere Zemallandia. Lei la pensa allo stesso modo? Io spero che giocheremo un calcio propositivo, che serva a qualcosa. Per ora ci sono momenti in cui giochiamo tanto per giocare, senza significato. Per il resto, se Perotta ha giocato più di 80 pallone contro la Solenità non è normale. Come difensore centrale, quando ne tocca 30 già è troppo. Ma noi lavoriamo per questo, per cercare di abituarsi a giocare a un certo tipo di calcio e a certi movimenti. Quando riesce e quando non riesce, visto che noi in ultimi tempi non abbiamo fatto tanti gol, vuol dire che non riesce. I movimenti ci sono, il problema è che tipo, ultima partita, a Frosinone abbiamo giocato troppo sui piedi e poco sui spazi liberi. Io voglio obbligarli di andare a cercarsi, anche dentro l'area, spazio libero. L'unico problema è che bisogna vedere se si faranno play-off, perché penso che le prime tre squadre si stanno distaccando, anche se Palermo ha perso. E allora questo pomeriggio è in tela Pescara, ovviamente tutto su TV6 a partire dalle 14.30 con Andrea Costantini in studio con diretta stadio, con Paolo Renzetti da Chiavari. Ovviamente in diretta il pre-gara, la gara e anche e soprattutto il dopo-gara con le interviste in diretta, ovviamente, dal comunale di Chiavari per questa sfida fondamentale per i bianco-azzurri in casa in tela. E torniamo sempre sul messaggero, come vedete, infermeria affollata, diversi indisponibili, Ceccarelli squalificato, infortunati Nizzetto e Pellitzer, difesa da ridisegnare per Aglietti. Avete sentito anche Zeman che ha detto adesso giocano 5-3-2 e allora ascoltiamo proprio sull'altro fronte le parole del tecnico dell'Entella, Alfredo Aglietti. Hanno vinto spesso anche per 1-0, cosa un po' strana per le squadre di Zeman, però hanno grande qualità, insomma, hanno giocatori importanti, hanno una squadra che sicuramente fino adesso, anche per bocca loro, insomma, della società dei dirigenti, si aspettavano qualcosa di più, perché comunque ci sono giocatori forti, importanti, l'allenatore, insomma, lo conosciamo, è un uomo che ha fatto anche la storia del calcio italiano e quindi sicuramente massimo rispetto per lui, per il Pescara, per quelle che sono le situazioni loro, però noi, come ho detto, noi dobbiamo guardare noi stessi, cercare di fare la nostra partita, non avere timore reverenziale, assolutamente, essere consapevoli che se lasciamo spazi ai loro contropiedisti come Pettinari, Yanga e lo stesso Mancoso hanno velocità a gamba, quindi può essere pericoloso, dovremo essere molto bravi nella gestione della partita in tutte e due le fasi, detto questo, noi per continuare il cammino verso la salvezza, la partita di domani riveste un'importanza capitale, dobbiamo cercare innanzitutto di muovere la classifica, possibilmente però, ho detto, tornare a vincere perché in casa noi nell'ultimo periodo, ma non solo, non siamo quello che mi piacerebbe che la squadra fosse, ecco, aggressivi, convinti, consapevoli del fatto che comunque anche il nostro campo ci può dare dei vantaggi e gli svantaggi le devono avere altre squadre, dobbiamo cambiare marcia sotto questo aspetto, dobbiamo far tornare il comunale un fortino come lo era negli anni passati perché la salvezza passa anche e soprattutto da questo. Queste le parole di Alfredo Aglietti, ex attaccante, che ha giocato anche in Serie A. Oggi non gioca solo la Serie B, scende in campo anche la Serie C e allora scende in campo il Teramo contro la Feralpi per il riscatto. Oggi a Salò i biancorossi devono buttarsi alle spalle, è un inizio 2018 disastroso. Palladini partirà con il 4-3-3, ospiti rigenerati dalla cura Beggi, Rossi e Ventola non convocati, Amadio sarà in cabina di regia, questioni Teramo che ritroviamo anche sul quotidiano Il Centro, Teramo a caccia del colpaccio per scacciare la crisi, il diavolo torna a Salò dove a maggio vinse l'ultima gara lontana dal Bonolis, Palladini sceglie il 4-3-3 che vediamo con Bifulco, Sales, Caidi, Speranza e Pietrantonio in difesa, Graziano, Amadio e De Grazia, Bacio, Terracino, Gondo e Panico in attacco. Caglioni, Vito, Francesco, Legati, Emerson e Martín, ex-Bescara peraltro Martín per la Feralpi, Salò, Rocca, Capodaglio e un'altra ex-Bescara come dettore a centrocampo, poi Voltan alle spalle di Ferretti e del capo cannoniere del Girone Guerra in serie D, Moretti, il talismano del San Nicolò rinato con l'avvento di Montani in panchina, oggi l'anticipo a Giulianova contro il Campobasso tra il San Nicolò davvero rigenerato e i molisani. Altre notizie che prendiamo di sport dal messaggero Acqua e Sapone, Fuzzal, torna il campionato e subito big match contro la Luparenze, ma è una settimana importante anche per Roseto che gioca lo scontro diretto contro Bergamo, allora Casa Grande, il capitano, dice chi ama Roseto, non può mancare al Palamangetti ovviamente per questo impegno fondamentale per la salvezza. In serie D, Fabrizi, figlio d'arte Aquilano, sento il mister e poi papà, queste le parole del giocatore, andiamo, torniamo sul centro per altre notizie di sport, sci di fondo, i campioni del futuro si danno battaglia sulla neve di Alfedena. E poi l'Aquila Rugby, sfida alla capolista Cus Genova, Serie A domani Nero Verdi a caccia del colpo in Liguria, la Gran Sasso in casa, ore 12.30 contro Torino. In basso ciclismo under 23, Bevilacqua Sport Ferretti si presenta a Roseto, per la ritmica Gerardi spinge l'Italia alle Olimpiadi giovanili. Chiudiamo con lo sport del quotidiano, la città che ovviamente dà spazio soprattutto alle questioni che riguardano il Teramo. Teramo a Salò sperando di fare il colpaccio, seconda contro penultima, vigilia a bocche cucite, qualche dubbio di formazione da sciogliere per Palladini, queste le probabili di questo pomeriggio al Lino Turina. Peralpi che è una rosa completa, un attacco atomico con il cannoniere guerra che abbiamo visto. Con questa notizia noi chiudiamo l'edizione di Mattino 6 che torna lunedì ovviamente per una nuova settimana sempre puntuale alle 8 su TV6. Vi ricordo l'appuntamento oggi alle 14 con il telegiornale come ogni sabato quando gioca il Pescara, edizione ridotta rispetto a livello tempistico, rispetto alla normalità perché poi alle 14.30 saremo già in diretta con diretta stadio, in diretta da Chiavari per l'impegno dei biancoazzurri di Zeman contro Lentella. Oggi diretta stadio più ampio anche dedicato ai tifosi del Teramo perché poi seguiremo anche Feralpi, Salò, Teramo e vedremo se la squadra di Palladini ce la farà conquistare la prima vittoria del nuovo anno. Come detto mattino 6 torna lunedì alle ore 8. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.